Ah ripresa? Sarvatore! Ah si ma l'hai detto io? Regà, io a casa! Ecco pure Sarvatore va! Chi è? A me come sei scaricato il radar? A posto! A posto! Ma hai caricato il radar? Dove sei caricato in automatico! Buongiorno che sto scendo da casa! Giro domenicale! Iniziamo va! Quanti gay stamattina? C'è un bel posto stamattina! Ho detto! Ma nemmeno se lo vedo ci credo! E con Dio non credo! Ma sai perché? Partenza da fabbrica di Roma Per? No, noi andiamo al piano! No, noi andiamo al piano! Ma non ti scappo! Oh stamattina l'ho dovuto... Un' la natale di Roma! Un' la natale di Roma! E che si è che! Grazie a tutti. 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 Oh, ma il caffè? Io lo so, c'è anche il massimo lassù. Tutto è un po' sverotto, ragazzi. No, ma il caffè è un po' sverotto. Il caffè è un po' sverotto. Allora, questo è un po' sverotto. Il caffè è un po' sverotto. E' 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 un po' sverotto. Il caffè... E' un po' sverotto. E' un po' sverotto. E' un po' sverotto. Grazie a tutti.